...esperimentale sulla web tv della Camera dei Deputati. L'ordine del giorno reca l'audizione del Capo del Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria della Banca d'Italia, Dottor Tavangelini. Ricordo che la Banca d'Italia è già stata udita nella seduta del scorso 15 aprile, in ordine all'attuazione degli interventi introdotti dal legislatore con i DL 18 e 23 del 2020, relativamente al settore bancario e finanziario per il sostegno alle aziende e di imprese colpite dalla crisi. Lo scorso 27 maggio la Commissione ha esaminato il questionario inviato alle 140 banche operanti in Italia sull'attuazione delle misure riguardanti il settore bancario di QEDL 18 e 23. Dall'esame del questionario è emerso un quadro di indubbia complessità delle procedure in atto, in particolare mentre per le fattispecie di moratoria si registra un andamento molto positivo, per le fattispecie di cui l'articolo 13 del DL 23 2020 è emersa, come molto rilevante, sia nelle audizioni che la Commissione ha svolto, sia nelle risposte fornite dalle banche al questionario inviato, la questione del rapporto tra le richieste presentate ed accolte da un lato e prestiti effettivamente erogati. Questo è un punto molto importante. Ricorda al proposito che il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Norevole Quartieri, ha riferito in audizione il 4 giugno scorso che le domande di garanzia accolte dal Fondo Centrale PMI nel periodo 17 marzo-2 giugno 2020 sono state complessivamente 476.225, per un importo complessivo di circa 18 miliardi di euro, mentre per quanto riguarda l'erogato, i dati riferiti al 22 maggio indicavano 6,6 miliardi di euro, che presumibilmente al 2 giugno dovrebbero essere saliti a circa 9 miliardi di euro autorizzati. È molto importante quindi conoscere, con dati aggiornati, se il trend di crescita delle erogazioni si sia incrementato negli ultimi giorni. Altra questione importante, emersa anche nell'audizione di ieri con Abbi, è valutare se le modifiche migliorative, grazie all'apporto del Parlamento, introdotte in sede di conversione del cosiddetto DL liquidità, segnatamente l'elevazione del finanziamento da 25 a 30 mila euro, l'allungamento del periodo di durata del finanziamento e l'ampliamento del ricorso all'autocertificazione, richiedano tempi non immediati per essere pienamente applicate. Mi riferisco in particolare alla necessità di un'autorizzazione della Commissione europea su tali modifiche normative e alla necessità di chiarimenti operativi, di adeguamenti e della modifica delle procedure informatiche da parte del Fondo di Garanzia per le PMI, nonché di adeguamenti delle procedure organizzative ed informatiche delle banche. Anche su tale tema sarebbe importante conoscere la valutazione circa l'applicazione di tali misure. Anche ulteriore tema, i tassi di interesse applicati dalle banche all'operazione di prestito e relativi costi e provvigioni applicati. In questo si sono registrate differenze tra le diverse banche. Per questo abbiamo chiamato in audizione l'ABI, che è stata sentita ieri ed ora la Banca d'Italia, per riferire su tali questioni, aggiornando le informazioni fornite nelle precedenti audizioni. Do subito quindi la parola al Dottor Angelini, ringraziandolo per la disponibilità manifestata a collaborare con la Commissione. Prego, Dottor Angelini. Buongiorno, gentile Presidente Ruocco. Buongiorno, onorevoli membri della Commissione. Io ringrazio a me volta la Commissione per la collaborazione che presta alla Banca d'Italia. Come vedrete nel testo che vi è stato reso disponibile, ci sono dei grafici che sono basati proprio su degli input che fin dall'inizio abbiamo concordato di condividere con la Commissione. Utilizziamo questi input che arrivano alla casella funzionale stabilita da questa Commissione per monitorare l'andamento del clima di fiducia, chiamiamolo così, sul fronte dei consumatori, imprese e famiglie riguardo allo stato di attuazione delle manovre governative. Il testo che vi è stato distribuito è molto lungo. Io lo scorrerò insieme a voi, attirando la vostra attenzione su alcune parti, ma ovviamente non lo vedremo nella sua interezza. Come abbiamo fatto in occasione della precedente audizione, del 15 aprile, vi invitiamo a farci avere domande scritte, richieste di approfondimenti. Saremo ben contenti di prenderle in considerazione. Il menu lungo il quale è strutturato questo testo è di sette paragrafi, in cui si dettagliano l'azione della Banca d'Italia, in particolare dall'ultima data che ci siamo visti. In quell'occasione ricorderete che è stato dato conto anche dell'azione nelle sedi istituzionali, in qualità di organo di politica monetaria per l'eurosistema e di autorità di vigilanza a livello di meccanismo di vigilanza unico. Qua ci concentriamo soprattutto su ciò che è successo da allora e quindi sull'attività prevalentemente di tutela della clientela e di analisi dei comportamenti delle banche con l'obiettivo primario di togliere sabbia dagli ingranaggi che, come diceva la Presidente Ruocco, è chiaramente ancora presente. Vedremo rapidamente i dati recenti a cui ha già fatto riferimento la Presidente. La settimana scorsa il Ministro Gualtieri ha dato delle informazioni. Abbiamo oggi, a dir la verità da ieri, dei dati previsti da EDR. Abbiamo dei nuovi dati su questo tema chiave che è quello delle erogazioni di credito ex articolo 13. C'è un paragrafo sulle cause dei ritardi sulle quali cause si è peraltro soffermato il Governatore della Banca d'Italia. Qua andiamo un po' più in dettaglio ma le cause direi che quelle sono sono state abbastanza ben identificate. C'è un tentativo al paragrafo 4 di dare un'occhiata all'eterogeneità che si rileva nei comportamenti delle banche che, come sapete, è piuttosto ampia e che si è vista anche dal questionario che questa Commissione ha somministrato alle banche. Un paragrafo e dei dati sui tassi di interesse. Un paragrafo breve sul tema della compensazione, la tematica di cui si è discusso molto sulla base di evidenza che suggerisce che parte dei finanziamenti fino a 25 mila euro siano stati utilizzati in compensazione di finanziamenti precedenti. Un paragrafo finale sugli emendamenti, anche se è chiaramente non esaustivo perché gli emendamenti sono stati molti. Quindi cosa abbiamo fatto noi di Banca d'Italia dall'ultima volta che ci siamo visti? Come vi dicevo, abbiamo soprattutto intensificato gli sforzi sul fronte della tutela della clientela. Abbiamo attivato un numero verde che è attivo 24 ore su 24 e che dà la possibilità ai clienti, imprese, famiglie, di esprimere domande, dubbi, perplessità e di ottenere risposta, assicuriamo, una risposta non immediata ma entro le 24 ore successive attraverso un contatto del richiedente. Guardiamo le segnalazioni. Vedrete che ci sono un paio di grafici in questo testo. Si tratta appunto degli esposti, le richieste di informazione e le lamentele indirizzate a questa Commissione e traduciamo anche le richieste e le lamentele del numero verde in indicatori quantitativi per cercare di capire dov'è che stiano i problemi e per andare poi ad affrontarli, a cercare di risolverli. Tutta questa massa di informazioni la utilizziamo poi per i contatti bilaterali con le banche. Cioè cerchiamo sostanzialmente di sensibilizzare, di spingere al miglioramento le banche per le quali abbiamo evidenza che ci siano problemi nell'attuazione di queste misure. Abbiamo fatto anche delle verifiche sui siti web che hanno fatto seguito alla comunicazione del 10 aprile nella quale avevamo indicato una serie di requisiti abbastanza lunga e dettagliata alle quali le banche dovevano attenersi e stiamo adesso verificando appunto che queste richieste siano state soddisfatte. Sul fronte degli strumenti dei DL vi ramento che c'è un comunicato stampa settimanale che trovate sul sito della Banca d'Italia sul sito del MEF e credo anche sui siti delle principali organizzazioni che partecipano alla task force in cui appunto ogni settimana ci sono dati aggiornati. Le principali fonti di dati su questi fenomeni sono due. C'è il Medio Credito Centrale che gestisce il Fondo Centrale di Garanzia che ha dati molto aggiornati hanno delle procedure informatiche che consentono loro di distribuire, di raccogliere e distribuire dati con una granularità elevata ad alta frequenza. Per le banche abbiamo varato invece una raccolta settimanale che trovate appunto sul sito della Banca d'Italia. Nel paragrafo 2.1 trovate i dati che già richiamava la Presidente Ruocco continuiamo a vedere una crescita sul fronte delle moratorie oltre un milione virgola due richieste per le moratorie PMI 149 miliardi di prestiti gran parte di queste ormai il 94% alla data del 29 maggio è stato accolto c'è una parte di rifiuto dell'1% e il resto è in corso di esame. Questa parte del macchinario come diceva la Presidente Ruocco abbiamo evidenza che stia funzionando in maniera adeguata. Sul fronte delle moratorie cosiddette Gasparrini la situazione è un po' più complessa c'è una figura sulla quale attiro la vostra attenzione che è la figura 1 a pagina 22 di questo dattilo scritto che spacca il numero e gli importi delle richieste in approvate e rigettate e in corso di esame. Come vedete c'è una crescita ancora abbastanza elevata del numero di richieste con una quota di approvazione che sta salendo ma che è comunque ancora minoritaria rispetto al totale. Sulle cause di questo fenomeno mi soffermo brevemente in seguito. Ci sono poi a fianco di queste moratorie quelle che le banche e le associazioni di categoria hanno messo a disposizione su base volontaria per la clientela e che anche se stanno registrando un tasso di adesione molto elevato. Abbiamo nel complesso oltre 1,1 milioni di moratorie richieste dalle società non finanziarie per oltre per circa 180 miliardi circa 1,3 milioni di moratorie richieste dalle famiglie dove per famiglie intendiamo anche una serie di imprese non finanziarie le cosiddette famiglie produttrici da un punto di vista contabile per un controvalore di 81 miliardi allora sul fronte dei prestiti garantiti abbiamo appunto il nucleo centrale dei ritardi e delle difficoltà fondamentali alla data del 29 maggio alle banche sono state avanzate richieste per quasi 800 mila domande richieste di crediti assistiti da garanzia del fondo centrale di queste quasi 800 mila la gran parte è relativa alle richieste di prestiti fino a 25 mila euro di cui alla lettera M dell'articolo 13 la figura chiave su questo fronte è la figura numero 2 che trovate a pagina 23 su questi dati che consentono di spaccare il totale delle richieste ricevute dalle banche in richieste e erogazioni effettive vedete che abbiamo tre osservazioni fino ad oggi la prima rilevazione è stata possibile il 15 maggio la seconda il 22 maggio che è una data che coincide più o meno con la data che era che era stata poi indicata per il questionario di questa commissione e l'ultimo dato disponibile che è quello del 29 maggio come vedete in termini soprattutto di numero di domande il pannello A della figura 2 evidenzia che c'è un forte recupero dell'area blu dell'istogramma che segnala appunto che la percentuale di erogazioni alla data di riferimento è aumentata di molto nell'arco di 15 giorni siamo passati sostanzialmente da un tasso di erogazione di circa il 33% il 15 maggio al 61% alla data del 29 maggio questo è probabilmente il singolo dato più importante che troverete in questo dattilo scritto perché segnala anche se il giudizio deve essere ovviamente espresso con cautela che questo meccanismo complesso che è destinato a far affluire il credito alle PMI si sia avviato con difficoltà ma che alla fine si sia in effetti messo in moto quindi in sintesi da questo quadro emerge appunto un giudizio sostanzialmente positivo per le moratorie qualche problema in più relativo al fondo Gasparrini riteniamo che anche su questo fronte ci siano segnali che i problemi siano in via di risoluzione i problemi sono stati identificati con la complessità delle procedure e la necessità di verificare una documentazione più complessa ricordate che per il fondo Gasparrini ci sono delle agevolazioni significative per coloro che richiedono la moratoria e quindi è necessario poi verificare che queste informazioni siano corrette c'è stata un'attenzione operativa forte da parte di CONSAP che si è trovata a gestire in un giorno un numero di domande superiore a quello che normalmente riceveva in un anno questo ha creato delle inefficienze delle tensioni in alcuni casi ci riferiscono intermediari le situazioni di blocco informativo che hanno creato appunto un collo di bottiglia ci sono appunto però vari ci sono state prese varie contromisure a cominciare dall'ampliamento a tempo determinato dell'organico di CONSAP aggiornamenti e potenziamenti informatici e una serie di modifiche del DL23 apportate in sede di conversione che snelliscono significativamente il processo di lavorazione quindi mentre appunto per il tema dei prestiti garantiti un quadro il quadro è meno chiaro ci sono dei segnali chiari di ritardi ma anche dei segnali di miglioramento la figura 4 che trovate a pagina 25 racconta un po' la storia di questi tre blocchi moratori e moratori gasparini e finanziamenti garantiti utilizzando le segnalazioni di cui parlavo all'inizio ci sono appunto nel pannello A le segnalazioni che riceve la Banca d'Italia dalla settimana 27 aprile 3 maggio anche quelle che riceviamo tramite il numero verde e le segnalazioni ricevute dalla commissione come vedete c'è al netto delle segnalazioni ricevute tramite l'appdesk che determinano un po' una soluzione di continuità nella serie storica c'è un andamento complessivamente lievemente decrescente di queste segnalazioni che appunto indica che ci sia un graduale ingresso a regime della situazione il pannello A tra l'altro comprende non solo le lamentele ma anche le richieste di informazione e le lamentele relative a cosa non c'è nei DL in particolare per esempio ci sono state molte richieste da parte della clientela bancaria di moratorie su credito al consumo che poi erano diciamo dirette più al legislatore in effetti che al sistema bancario nel pannello B si vede invece la storia per composizione di queste della parte relativa alle lamentele proprio esclusi quindi le richieste di informazione e vedete che il tema del diniego della moratoria espresso in senso lato qui sono ricomprese anche le lamentele relative ad esempio alla debito degli interessi della rata in scadenza a marzo ecco il tema della moratoria che era molto rilevante in aprile si va gradualmente riducendo mentre assume un certo rilievo il tema del diniego di accesso alla liquidità entro i 25 mila euro veniamo quindi rapidamente ai ritardi nell'erogazione dei finanziamenti ora il tema principale qui è quello appunto dei finanziamenti fino a 25 mila euro sulle quali cause dei ritardi si è già come dicevo espresso il governatore della Banca d'Italia nelle considerazioni finali e avendo ascoltato il ministro Gualtieri in audizione questa commissione direi che le cause più o meno siano quelle le scorriamo brevemente nelle pagine 10 e seguenti ora in primo luogo c'è stato un tema di difficoltà operativa registrata dalle banche nella gestione di questo numero eccezionalmente elevato di domande le domande inviate al fondo centrale di garanzia sono passate da una media giornaliera di circa 500 fino alla seconda metà di marzo a oltre 20 mila nella seconda metà di maggio su base giornaliera quindi stiamo parlando di numeri enormi la macchina diciamo in senso lato non solo presso le banche ma presso anche gli altri attori coinvolti non era tarata per gestire questi volumi quindi questo aumento enorme di domande ha determinato poi l'esigenza di aggiustare la macchina come è stata aggiustata la macchina le banche per esempio in vari casi si sono rivolte a dei servicer che appunto esterni alla banca erano incaricati delle verifiche documentali delle domande di finanziamento e di inoltrare poi queste richieste al fondo centrale di garanzia abbiamo evidenza che anche alcuni di questi servicer sono a loro volta entrati in difficoltà e non sono riusciti a rispettare gli standard di servizio stabiliti con le banche un terzo elemento diciamo di questa lunga catena è quello del fondo centrale di garanzia che deve accogliere le domande che arrivano dalle banche in questo caso si tratta di una macchina molto efficiente che si è adattata in corso d'opera ad esempio aumentando le riunioni del consiglio di gestione del fondo che sono diventate bisettimanali se ricordo bene proprio per smaltire in maniera più rapida le richieste ma abbiamo evidenza trovate un grafico nella parte appunto iconografica della relazione che fa vedere che al massimo si è arrivati a un picco di lavorazione di dieci giorni per queste domande intorno al 5 maggio e poi la durata dei tempi di lavorazione del fondo centrale si è ridotta ma è comunque di qualche giorno chiaramente tempi più lunghi si riscontrano poi per le domande di finanziamento superiori ai 25 mila euro la pandemia è inutile dirlo che tutto ciò si è verificato in un momento in cui le banche gli intermediari la pubblica amministrazione lavorava indelocalizzato e chiaramente questo ha dato un'altra grossa mano alla creazione dei problemi che abbiamo riscontrato un'altra causa che è una causa importante connessa con la valutazione della clientela su questo tema c'è stato molto dibattito anche in sede di conversione del DL la valutazione della clientela rimane necessaria sotto tre aspetti chiave merito di credito profili antiriciclaggio e profili antimafia ora il DL23 ha previsto delle procedure semplificate come sapete per la concessione della garanzia e la valutazione da parte del medio credito centrale ma non ha esonerato in maniera esplicita le banche dall'effettuare i controlli su queste materie ci sono vari elementi di semplificazione di agevolazione ma non un esonero esplicito e direi giustamente e questi temi appunto sono stati sono stati dibattuti ampiamente però questi sono parte del motivo per cui oggi ci troviamo con dei ritardi in particolare appunto per quel che riguarda i prestiti fino a 25 mila euro per quelli sopra ai 25 mila euro tipicamente la garanzia non esonera affatto la banca dall'effettuare dei controlli e quindi i tempi di erogazione sono abbastanza standard per quel che riguarda invece i prestiti più piccoli l'istruttoria segue un iter semplificato ma c'è eterogeneità tra le banche rispetto all'analisi del merito creditizio la eterogeneità è un po' connessa con l'approccio della banca che è in qualche misura idiosincratico e se volete connesso anche col grado di avversione al rischio della banca stessa abbiamo riscontrato nei colloqui con le banche che in alcuni casi ci sono per esempio dei percorsi accelerati per la clientela con elevato merito di credito mentre i controlli sul fronte del merito di credito diventano più incisivi fino a diventare quasi normali per la clientela con un elevato profilo di rischio ed è evidente che poi chi si rivolge alle banche per richiedere questi prestiti è tendenzialmente in una fase come questa la clientela con maggiore difficoltà quindi in questi casi abbiamo riscontrato che alcune banche poi innalzano i criteri di delibera e introducono dei criteri di concessione più restrittivi che possono allungare la durata o portare addirittura al diniego del prestito come sapete è stato detto sulla stampa da vari esponenti anche del mondo bancario che pur essendo in presenza di una garanzia del 100% le banche temono il rischio legale di incorrere se dovessero erogare prestiti a chi in merito di credito non ce l'ha fatto nei reati concessi con una anomala erogazione del credito che chiaramente è un rischio appunto che è in funzione inversa dello stato di salute del prenditore un prenditore che non è in grado che non è in stato di buona salute è probabilmente colui che non sarà in grado di ripagare soldi e che enfatizza questo rischio e ovviamente appunto la mancanza di una norma che faccia salve in maniera esplicita le banche dalla valutazione anche in questi casi è uno dei motivi per cui le banche dichiarano appunto di voler guardare queste pratiche con attenzione e quindi richiedendo più tempo su questo tema non dico oltre appunto ci siamo già espressi in passato qua c'è la necessità di trovare un equilibrio molto difficile tra tre esigenze tutte e tre da tutelare da un lato c'è l'esigenza della rapidità che è sacrosanta dall'altro lato occorre però tutelare i conti dello stato perché è evidente che un prestito che arriva molto rapidamente a un'impresa o a una famiglia o a un consumatore che sicuramente dal punto di vista della banca non lo restituirà si traduce sostanzialmente in una perdita per il fondo centrale di garanzia e quindi per il contribuente e quindi questa è una prima tensione l'altra tensione è appunto tra la rapidità e l'esigenza di tutelare la legalità quindi l'esigenza di assicurarsi che i controlli AML e i controlli antimafia pur se semplificati e basati sulla rischiosità del prenditore cosa che le banche sono in genere attrezzate a fare però non vengano spazzati via dal tappeto andrei rapidamente alla questione della eterogeneità tra banche nell'ereguazione dei finanziamenti ci sono due figure che ho trovato molto interessanti che sono la figura 7 e la figura 8 alle pagine 28 e 29 la figura 7 riporta dei percentili della distribuzione di frequenza del rapporto tra crediti erogati e domande ricevute è l'indicatore che come vi dicevo qualche minuto fa sta registrando questo forte miglioramento nella seconda metà di maggio non viene riportata la media ma se vedete gli istogrammi della figura di sinistra avremmo una media più o meno a metà del primo quadratino azzurro che sta intorno al 33% del rapporto erogazioni su totale domande ricevute il 15 maggio e che sale intorno al 61% al 29 maggio cosa sono i quadratini azzurri i quadratini azzurri nel pannello A rappresentano la differenza interquantile vuol dire sostanzialmente lo scarto che c'è tra la 25esima banca e la 75esima banca della distribuzione come vedete questa differenza si è ampliata nel corso della seconda metà di maggio e quindi troviamo banche sostanzialmente brave che riescono a erogare il 70% delle domande circa ma nello stesso momento abbiamo banche che erogano il 40% o meno della distribuzione mentre la dispersione era più bassa all'inizio questo vuol dire che persistono ancora delle tensioni a livello dei singoli intermediari il pannello di destra riporta un momento diverso della distribuzione la differenza tra il 90esimo e il decimo percentile ma dà di nuovo la percezione che la dispersione si è elevata ci sono ancora il 29 maggio circa 10 banche su 100 che erogano meno del 20% circa delle domande ricevute allora da cosa dipende questo tipo di eterogeneità è un tema difficile il paragrafo che abbiamo appena visto riporta una serie di evidenze nella figura 8 c'è un tentativo di correlare questo rapporto ripeto rapporto tra crediti erogati e domande ricevute con alcuni indicatori tipici delle banche il pannello in alto a pagina 29 riporta la relazione tra questo rapporto e il cost income il cost income è il rapporto tra appunto costi operativi e totale del margine di intermediazione è un indicatore comunemente utilizzato di efficienza delle banche ora a priori uno potrebbe pensare che se la lentezza fosse connessa a inefficienze strutturali delle banche questa relazione dovrebbe essere negativa la realtà come vedete è che la relazione è sostanzialmente non esistente sulla base delle osservazioni che abbiamo al 22 maggio ogni pallino qua rappresenta una banca del campione lo stesso discorso vale per il ROE una banca più efficiente dovrebbe si può pensare in prima approssimazione che sia anche più profittevole quindi ci dovremmo aspettare una relazione positiva tra ROE e rapporto erogazioni su richieste vedete che la relazione è leggermente positiva ma sostanzialmente molto molto debole nella pagina successiva la pagina 30 trovate altri due indicatori che sfruttano la stessa logica quindi capitalizzazione e liquidità di nuovo il ragionamento se volete molto di base ma che ha una sua cogenza suggerisce che una banca potrebbe non erogare perché non ha capitale quindi ci dovrebbe essere una relazione positiva tra erogazioni e capitale di qualsiasi qualità come vedete anche in questo caso la relazione sulla base dell'evidenza campionaria non c'è sostanzialmente non sembra che la rapidità di erogazione sia connessa con il capitale l'LCR che trovate sull'asse verticale dell'ultimo pannello è un indicatore di liquidità di nuovo il ragionamento intuitivo è che una banca potrebbe non erogare perché non ha liquidità pur avendoci capitale sebbene le due cose siano correlate vedete di nuovo che la distribuzione di questi punti è piuttosto difficile da interpretare cosa ne caviamo da questa analisi si tratta chiaramente di un'analisi abbastanza preliminare che non può sostituirsi a un'analisi più rigorosa tenesse di causazione sarebbe necessario guardare degli indicatori di efficienza diversi sarebbe necessario fare analisi più approfondite però nel complesso sembra evidenziare che non ci siano dei fattori strutturali degli intermediari che corredino con i ritardi questi ritardi quindi potrebbero essere connessi con fattori idiosincratici e temporanei riflesso delle difficoltà discusse nel paragrafo precedente alla luce comunque di questa eterogeneità degli intermediari utilizzando questa analisi abbiamo spaccato il campione in due intermediari che stanno sopra e sotto la mediana in termini di rapidità di erogazione e a quelli che stanno sotto la mediana abbiamo inviato proprio in questi giorni una lettera in cui chiediamo informazioni sulle cause dei ritardi facciamo presente che la decisione di erogare o meno il credito sta nella loro piena autonomia ma fatta questa premessa chiediamo agli intermediari di attivarsi rapidamente per rimuovere eventuali cause di ritardo che siano imputabili a loro specifiche carenze a pagina 13 trovate poi un paragrafo sui tassi di interesse sui finanziamenti garantiti questa evidenza che riviene dai dati del fondo centrale di garanzia suggerisce in particolare per i dati relativi ai finanziamenti di cui alla lettera M un tasso di interesse medio intorno all'1,2% tasso che sale poi al 2,4% per le operazioni diverse da quelle interamente garantite la figura 9A riporta delle spaccature di questi tassi di interesse medi la trovate a pagina 31 per dimensione di impresa per area geografica per settore per rischiosità come vedete la varianza è veramente molto bassa ci sono le correlazioni che uno si attenderebbe in termini di dimensione e in termini di area ma le differenze sono molto piccole un'altra misura della differenza della dispersione la trovate nella figura 10 a pagina 32 che prende la distribuzione fotografa la distribuzione dei tassi sulle operazioni fino a 25.000 euro vedete che per arrivare a un 1,9% di tasso dobbiamo arrivare al 99 percentile della distribuzione la distribuzione è di per sé schiacciata molto schiacciata sull'1,2% che vedete nella figura precedente brevemente mi avvio a concludere sul tema della compensazione come sapete la compensazione è prevista esplicitamente nella legge dall'articolo 13 comma 1 lettera E che prevede appunto che vi possa essere compensazione per i crediti rinegozati purché vi sia un incremento della montagna del finanziamento non inferiore al 10% questo 10% è stato poi recentemente innalzato al 25% per il momento questa voce non sembra essere ciò che guida l'espansione della domanda alla data di rilevazione ultima appunto il totale di queste richieste di finanziamento rappresentava il 2,5% soltanto delle domande pervenute alle banche per i prestiti di cui alla lettera M c'è stata una circolare dell'ABI che come probabilmente sapete è intervenuta un po' dopo l'emanazione del DL ma che ha chiarito che non vi può essere compensazione per i prestiti di questa voce nel caso dei prestiti di SASH ci sono esplicite previsioni che dicono che le compensazioni non sono ritenute ammissibili dal questionario che è stato somministrato da questa commissione emergevano dei casi di compensazione anche se non particolarmente rilevanti da quello che ricordo è possibile che questo fenomeno si sia verificato nella fase iniziale di entrata in vigore del decreto stiamo facendo degli approfondimenti con alcune delle banche indicate nella vostra segnalazione ma ci sembra complessivamente di poter affermare che questo fenomeno sia in via di scomparsa o che sia scomparso del tutto brevemente sulla questione degli emendamenti la legge appunto è entrata in vigore in maniera definitiva di recente gli emendamenti che sono stati apportati sono numerosi quando c'è una panoramica complessiva si fa riferimento a quelli principali che hanno un impatto sulle misure chiave oggetto di questa di questa audizione quindi c'è sicuramente un'enfasi maggiore sull'autocertificazione riteniamo che questo appunto dovendo contemperare diverse esigenze sia uno sviluppo positivo renderanno questo maggiore ricorso all'autocertificazione più celere il processo di erogazione ci sarà una responsabilizzazione ovviamente per il debitore altre modifiche che valutiamo positivamente introdotte in seguito alla conversione sono quelle che riguardano per esempio nel caso dei prestiti sasce le modifiche al vincolo di destinazione dei fondi che fanno sì che ci sia in effetti una corrispondenza tra stato di necessità indotto dalla crisi covid e utilizzo dei fondi ed è stato anche introdotto l'impiego di un conto dedicato per l'utilizzo di questi fondi che agevola molto i compiti delle banche a fini di tutela della legalità ci sono state poi modifiche importanti sul fronte dei finanziamenti di cui alla lettera M è stato aumentato a 30.000 euro come sapete l'importo massimo è variata anche la durata dei prestiti la Presidente Rocco faceva riferimento agli effetti di queste misure sulla rapidità di erogazione è evidente che cambiando questi parametri la macchina si deve rimettere in moto la nostra impressione è che pur tenendo conto di questa difficoltà i vantaggi portati da questi emendamenti possano giustificare il fatto che siano stati approvati e riteniamo anche che essendo ormai la macchina avviata è molto probabile direi che questi rallentamenti seppure non saranno certo delle dimensioni che abbiamo visto nel corso del mese di maggio la legge appunto però non contiene una previsione generale che chiarisca la sorte delle domande già presentate come avete visto c'è una mole notevole di domande che è stata presentata ma che non è stata ancora diciamo seguita da un'erogazione quindi qua il lavoro da fare c'è sicuramente il medio credito è al lavoro su questo fronte noi siamo fiduciosi che il risultato di questo lavoro possa appunto portare magari a un rallentamento ma certo non ai problemi che abbiamo visto fino adesso sul tema della valutazione del merito di credito che appunto abbiamo visto essere parte dei problemi è chiaro che ci sono dei riferimenti nella conversione al tema dell'autocertificazione che viene ampiata e che dovrebbero contribuire a snellire il processo però come nella formulazione originaria del DL la legge non chiarisce se la valutazione del merito di credito possa esaurirsi completamente nella verifica formale dei requisiti di accesso al credito quindi ci aspettiamo che a livello delle singole banche un certo grado di eterogeneità nei comportamenti e quindi magari qualche elemento di lentezza possa rimanere c'è poi infine un riferimento a una modifica del comma 5 dell'articolo 1 bis del DL che è stato introdotto per disciplinare l'autocertificazione a fini AML in questo contesto ribadiamo in questa sede che è importante che questo articolo di norma venga interpretato in senso estensivo noi abbiamo già dato e daremo indicazioni alle banche per far sì che la normativa AML venga gestita in una maniera basata sul rischio quindi proporzionale alla rischiosità del prenditore ma in maniera omnicomprensiva e mi fermerei qua Presidente grazie grazie a lei per primo intervento il collega De Bertoldi prego grazie Presidente ringrazio il Dottor Angelini per la consueta professionalità che Banca Italia esprime io una breve considerazione che poi dovrò purtroppo assentarmi di urgentemente per la Commissione Finanze al Senato allora ho riscontrato oggi con piacere per lo meno oggettivo il fatto che lei abbia dato una continuità a quanto il Governatore della Banca d'Italia aveva sottolineato se non sbaglio lo scorso primo di giugno e cioè sul fatto che fondamentalmente il problema vero della lentezza della burocrazia eccessiva era dovuto in particolar modo al merito creditizio e quindi al fatto che norme antiriciclaggio norme antimafia insomma c'è un articolo piuttosto chiaro il 2 giugno di Italia oggi che riprendeva questi concetti peccato che il Ministro Gualtieri magari la scorsa settimana queste mie osservazioni obiettava che di fatto non fosse vero ma insomma questo lasciamo stare allora la riflessione che mi viene è questa appunto da questi concetti ma anche dal tenore del suo intervento un intervento tipicamente da Banca Italia un intervento che ci sta nel momento in cui si considera si considerano questi crediti covid chiamiamoli così come una normale attività bancaria cioè la banca deve per rispetto dei suoi soci dei suoi azionisti e per rispetto delle norme di antiriciclaggio di antimafia deve svolgere questa attività però vede dottore mi rivolgo soprattutto ai colleghi e ai colleghi della maggioranza questo decreto è stato annunciato non in una situazione ordinaria come un decreto per promuovere ordinariamente l'attività economica del nostro paese ma è stato annunciato come il bazzucca di fuoco che doveva e doveva in effetti dare liquidità immediata alle imprese che stavano morendo per le che avevano le seracinesche abbassate a quelle imprese che avevano bisogno in modo straordinario di liquidità ecco quindi che questa logica assolutamente condivisibile in un momento ordinario che esprime Banca Italia e che ha portato le banche ad agire in un certo modo non si sposa per nulla con quella emergenza e quella straordinarietà del momento e allora la conclusione politica da politico che io ne devo trarre è che la normativa non è stata coerente con le finalità e le premesse di questo decreto perché bisognava mettere in condizioni le banche davvero con una malleva assoluta di poter far arrivare immediatamente soldi alle imprese perché questa era la finalità in un momento straordinario di questo decreto liquidità e così era stato annunciato dal Presidente Conte purtroppo la realtà dimostra che le aziende ancora soffrono e hanno problemi perché arriva tutto in ritardo o meglio tante volte purtroppo non arriva l'altro punto che concludo Presidente la variazione che è stata introdotta dalla Camera al DL liquidità benvengano queste variazioni che hanno aumentato a dieci anni appunto la restituibilità del prestito che hanno aumentato a 30.000 euro l'importo che hanno aumentato la percentuale nel caso di rinegoziazione sembrano però a detta anche della stampa specializzata creare ulteriore burocrazia ulteriori problemi e addirittura viene anche scritto in modo abbastanza chiaro le banche non devono ma possono adeguare a montare escadenze quindi sul fatto diciamo burocratico e anche su questo fatto che le banche che non devono ma possono adeguare a montare a scadenze mi piacerebbe sentire nel merito il suo parere grazie grazie a lei Pesco soprattutto sulle moratorie abbiamo visto che hanno avuto un grande successo nel senso sia quelle previste dalle leggi dello Stato Fondo Gasparrini e altre e sia quelle invece di libera iniziativa delle banche innanzitutto chiedo se non sarebbe opportuno secondo voi estendere le moratorie almeno fino a dicembre visto che la situazione insomma non è ancora rosea volevo chiedere visto che vi sono moratorie pubbliche e moratorie di iniziativa delle banche se non sarebbe opportuno standardizzare i metodi di accesso a queste moratorie anche se logicamente si andrebbe un po' a incidere sul libero mercato però magari trovare dei metodi comuni potrebbe essere sicuramente forse potrebbe essere utile nel fondo Gasparrini paga lo Stato invece nelle altre moratorie pagherà il debitore con più interessi su ciò che ha rimandato più avanti con i pagamenti quindi mi chiedo è così essenziale che nel fondo Gasparrini paghi lo Stato capisco che è il fulcro di questa iniziativa però visto che le moratorie si è in piedi anche senza contributo pubblico mi chiedo è così necessario che nel fondo Gasparrini ci sia questa parte pagata dallo Stato sempre sulle moratorie sempre sulle moratorie voglio chiedere se non potrebbe e sull'escursione delle garanzie se potrebbe essere utile in futuro pensare a una specie di moratoria nel momento in cui lo Stato si troverà a dover pagare le garanzie nel senso mi spiego meglio se una azienda dovesse dare segni di ripresa ma in quel momento non ha ancora liquidità per poter affrontare il pagamento di questo debito potrebbe essere utile pensare a un sistema per cristallizzare la situazione e magari rimandare di qualche mese l'inizio del pagamento delle rate di modo da dare qualche mese in più sostanzialmente alle date poi una domanda sul vostro lavoro sulle segnalazioni quindi se le vostre segnalazioni che avete ricevuto qualcosa ci ha detto e la ringrazio però state pensando anche a delle sanzioni per le banche che magari non si sono comportato in modo chiaro e poi sulle aziende che non riusciranno a chiedere finanziamenti con liquidità perché le banche fanno comunque merito creditizio ecco si può immaginare qualche soluzione per le aziende che non sono riuscite ad accedere alla liquidità e lo so che non è facile come domanda anche noi ce lo siamo posti molto però un salvagente per queste aziende secondo me va cercato grazie collega Marattin prego poi il collega Fesato si grazie presidente buongiorno dottor Angelini complimenti sempre perché le audizioni di Banca Italia sono sempre puntuali precisi e ci forniscono su tutti gli aspetti una grande informazione quattro cose molto veloci allora mi pare di capire che alla fine dalla sua audizione mi permetto di interpretarla ma mi correga se sbaglio viene fuori che le due cose che hanno sicuramente funzionato sono la moratoria magari più sulle imprese che non nella versione comprensiva del Gasparrini e la garanzia pubblica al 100% perché alla fine sui finanziamenti assistiti alla garanzia il 25 poi portato al 30 a mila di tetto abbiamo una velocità di erogazione maggiore uniforme e una bassa dispersione del tasso di interesse quindi io le interpreto come una conclusione che la garanzia pubblica al 100% ha funzionato perché è ridotto ecco la domanda è adesso noi abbiamo appunto alla Camera esteso alle finanziate a 30 mila euro ma sulla base di questa evidenza si poteva essere più coraggiosi nell'estensione dell'importo dei finanziamenti ne discutemmo molto prima di scrivere il decreto è evidente che qui c'è un trade off nel senso che più si allarga la garanzia più ovviamente esistono rischi di inversione di altri tipi di rischi però ecco che giudizio dà alla fine sui temporali framework consentiva fino addirittura a 800 mila euro le coperture noi siamo fermati a una soglia abbastanza bassa alla luce di questa prima esperienza abbiamo fatto bene a fermarci lì o no la seconda domanda sull'analisi sulla lentezza ecco l'ha ricordato già lei ovviamente correlation is not causation quindi non possiamo trarre in realtà delle conclusioni definitive su quelle analisi riportate di correlazione ma mi sono stupito che non c'era una correlazione fra lentezza del finanziamento e dimensione della banca quando invece l'avete messo per il tasso di interesse quindi avete provato a verificare l'esistenza di una correlazione fra dimensione banca e lentezza di erogazione cioè è vero che sono state più lente le banche più grandi a erogare o viceversa terzo punto penultimo l'autocertificazione ne abbiamo discusso parecchio abbiamo il DL adesso è passato al senato ma le modifiche sono state fatte alla camera perché dottor Angelini non so se lei ne è venuto a conoscenza in questo paese abbiamo abolito il bicameralismo l'abbiamo fatto nel modo più inefficiente e silenzioso possibile cioè i provvedimenti fanno una lettura sola ormai lo sanno tutti ma non si può dire questa cosa quindi queste modifiche di cui lei parlava le abbiamo fatte alla camera e abbiamo discusso molto su quella sull'autocertificazione ci siamo ho letto poi le vostre valutazioni mi sembrano positive ma c'era un pezzo che non siamo riusciti a fare che era quello dell'innalzamento modificando il codice penale per alcune fattispecie di reati connessi all'autocertificazione tradotto ti do più autonomia ma anche più responsabilità in caso vieni beccato che valutazione date nel senso sarebbe necessario un intervento normativo per innalzare le pene che ora sono minime sono sotto i tre anni non ricordo la fattispecie di reato non è dichiarazione mendace ne credo ne sia un'altra vale a dire le fattispecie di reato che si configurano in caso di autocertificazione falsa in quel senso c'era un'ipotesi alcune forze politiche hanno presentato emendamenti di raddoppio delle pene in quel caso lei ritiene che sia un complemento essenziale all'innovazione legislativa fatta alla Camera su questo punto o no infine l'ultimo punto devo dire io sono rimasto sorpresissimo da un grafico che lei ci ha consegnato non c'entra nulla con il DL23 che è un grafico che riporta la percentuale di liquidità delle imprese sull'attivo patrimoniale se questo fosse un paese in cui si può veramente discutere sarebbe sulle prime pagine dei giornali oggi pomeriggio dei telegiornali perché dice che in realtà da dieci anni è in corso un costante aumento delle disponibilità liquide di cassa e guardando sommando i due grafici che lei ci ha riportato ho visto che si riferiscono alla PMI alle PMI manufatturiere addirittura per le piccole imprese più che per le medie c'è questo trend e credo che il settore manufatturiere sia il primo allora riflettendo velocemente credo ci siano due possibili spiegazioni di tutto questo o è un riflesso del crollo degli investimenti privati perché c'è disponibilità di cassa ma le PMI non investono e allora questo è un tipo di problema oppure gli investimenti sono finanziati a debito in virtù del fatto che negli ultimi dieci anni il costo del debito sia azzerato avete fatto riflessioni su cosa stia veramente avvenendo perché è un dato stranissimo secondo me e di cui ripeto un paese pseudonormale dovrebbe discutere oggi ma credo che non succederà grazie grazie a lei diciamo di presentazione ho ascoltato con attenzione le parole di presentazione tre questioni di fondo la prima è questa non esiste una correlazione dalle tabelle che ci ha presentato tra nessun diciamo elemento della struttura della banca sia l'efficienza la capitalizzazione e null'altro diciamo la liquidità e i prestiti erogati ma allora dall'analisi che state facendo qual'idea vi state ponendo visto che la differenza della risposta delle banche è stata invece molto estesa rispetto appunto ai percentili che ci ha presentato cioè qual è stato l'elemento per esempio perché il tentativo che sto facendo in questo momento è quello di trasferire queste tabelle in azione in operatività in sistema di controllo di monitoraggio che possa però poi diventare sia dal punto di vista nostro politico che dal vostro punto di vista incentivazione affinché il sistema funzioni per esempio mi aveva molto colpito che ascoltando una relazione precedente alla sua che erano soprattutto le banche molto piccole che avevano una grandissima lentezza le banche del territorio paradossalmente quelle che dovrebbero essere più vicine alle imprese alle imprese piccole eppure erano molto più lente nel dare una risposta positiva o meno e comunque quasi sempre negativa almeno nelle prime settimane alle piccole imprese del territorio appunto ma come riuscire a trasferire questa analisi dal vostro punto di vista dal suo punto di vista in quello che ho appena detto la seconda questione vorrei una sottolineatura da parte sua su la figura 2 mi pare quella che metteva in evidenza la percentuale di risposte date 61% quindi è cresciuta però se compariamo con la tabella con la parte B della stessa si vede che oggettivamente sono cresciute le erogazioni per i prestiti più bassi ma quelli sopra i 25.000 euro no quindi un approfondimento da parte sua su questo se state pensando visti i dati insomma a un potenziamento del sistema di controllo di monitoraggio finalizzato però appunto l'azione di cui parlavo al punto 1 e da ultimo mi ha molto colpito una frase che è la parissiana è evidente no? è così però mi pone una domanda dal punto di vista politico cioè lei ha detto la decisione e se erogare meno il credito sta la totale autonomia delle banche allora io non vorrei che fosse questo l'elemento appunto assolutamente insomma di trasparenza che lei ha detto l'elemento che poi rischia di non far funzionare il sistema cioè dal vostro punto di vista e poi una risposta che dobbiamo trovare insieme naturalmente con la responsabilità politica le banche possono decidere autonomamente e evidentemente il sistema normativo che è stato messo in piedi non è diciamo adeguatamente convincente in questa direzione secondo lei che cosa si può fare per migliorarlo? Grazie Collega Ferro Grazie Presidente grazie Dottor Angelini per la puntuale relazione usuale della Banca d'Italia due domande molto specifiche e brevi tralascio aspetti prettamente politici che attengono spero un bicameralismo che l'attuale maggioranza non abbia cassato anche se l'onorevole Maratin fa parte la maggioranza quindi ma io sottoscrivo al cento sottoscrivo al cento per cento quello che hai scritto quello che hai detto tu e il tema è questo Dottor Angelini primo dal questionario che avevamo inviato noi emergeva un dato molto molto preoccupante per le erogazioni rilasciate dalle BCC cioè quelle più prossime ai territori rispetto alle domande alle richieste pervenute le BCC erano percentuali molto 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 basse se dipende da quelle eterogeneità di risposte che lei ha richiamato oppure c'è un tema c'è un tema proprio centrale di scelta di queste e come la Banca d'Italia proprio perché sono le realtà più prossime ai territori più vicini specialmente alle piccole e medie imprese secondo non ho visto e mi scuso se c'è se avete analizzato la localizzazione delle domande perché questo sarebbe interessante per me capire se rispetto alle richieste c'è una una fotografia delle varie aree del paese per macroare per capire se le risposte sono magari da banche nazionali sono eterogene omogene rispetto ai singoli territori altra domanda e sta emergendo in questi giorni il peggioramento del rating da marzo ad oggi il peggioramento dei rating delle varie aziende viene rilevato dalle banche in questi giorni nell'erogazione dei crediti un mio emendamento che ahimè non è stato era quello di dire blocchiamo i rating al momento della presentazione al cui si è verificato il fenomeno del coronavirus perché anche questo è un sistema che può aiutare le imprese un peggioramento del rating porta all'analisi del merito creditizio che c'è e io dico chi deve essere perché almeno che la banca d'Italia non ci dica qualcos'altro la valutazione del merito creditizio per importi poi cospicui almeno che non vogliamo buttare il paese alla deriva secondo me va trovata una mediazione l'ultima l'ultima domanda se ritiene ecco che si è possibile o fosse possibile un blocco del rating al momento della verifica in maniera tale da aiutare in maniera indiretta le aziende a sostenere costi finanziari più bassi questo era un tema la ringrazio io un altro intervento intanto ringrazio il dottor Angelini perché veramente questa relazione sarà molto importante per la commissione sarà oggetto di ulteriori approfondimenti e poi continuerà l'interlocuzione ci sono dei punti che mettono appunto in luce vari argomenti uno di questi è per esempio la differenza di comportamento da banca a banca è evidente che non si poteva altrimenti bisognava subito scrivere come aumento del debito pubblico imporre alle banche l'erogazione quindi una certa discrezionalità cioè l'opzione alle banche se erogare o meno il finanziamento a fronte della normativa bisognava lasciarla in piedi altrimenti la disciplina sarebbe stata diversa però ci sono quindi alcuni punti da chiarire per esempio una domanda che mi incuriosisce se c'è una correlazione tra le banche tra virgolette più restie e anche in relazione alla dimensione delle stesse a fornire il finanziamento e contemporaneamente se queste stesse banche comunque ci sia una correlazione di qualche genere siano quelle state più inclini a fare compensazioni piuttosto che a derogare nuova liquidità poi c'è la questione un altro dato che mi ha colpito è il tasso di interesse perché sopra cioè al di là di quelli garantiti al 100% dell'importo garantito al 100% dallo Stato noi abbiamo visto che sale addirittura al 2,4% quindi anche su questo magari va fatta una riflessione perché effettivamente in questo periodo è un tasso troppo elevato peraltro dalla sua relazione si evince questo è un punto molto importante che i parametri del comportamento delle banche anche in relazione a questi appunto tassi di interesse e quant'altro non sono cambiati da prima a dopo questo evento del coronavirus quindi effettivamente l'economia sta subendo uno stress che il sistema finanziario non sta cercando in qualche maniera di alleggerire e poi c'è la questione dell'asticella sopra e sotto i 25.000 euro che adesso sono diventati 30.000 però che un po' è vero che la rilevanza penale nel caso di erogazione a insomma imprese che poi vanno in bancarotta eccetera e quant'altro riciclaggio e va bene però obiettivamente anche dalle segnalazioni che abbiamo ricevuto ci sono delle fattispecie che comunque i toculi non rientrerebbero in questa in questa tipologia talvolta si tratta di vecchi clienti di una banca il cui rating magari è già ben noto e che magari sono in bonus e in quel momento non viene subito erogato il finanziamento ecco su questo bisogna fare chiarezza perché non vorrei che le banche premesso che la criticità c'è e il discorso della legalità e del coinvolgimento dal punto di vista penale è un tema però è evidente che non va confuso poi la situazione nella quale non c'è questa questo rischio e laddove invece effettivamente poi si rientra in questo potrebbe rientrare in questa fattispecie quindi su questo io chiederei a Banca Italia insomma tutti gli organi anche di controllo di essere molto rigidi sulla differenziazione sul monitoraggio anche del comportamento delle banche in questo senso grazie e le cedo la parola scusi può riformulare questa ultima parte cioè qual è il controllo esattamente che si aspetterebbe diciamo ci sono delle situazioni nelle quali le banche cioè per i prestiti al di sotto dei 25 mila euro in bonus ci sono delle segnalazioni per che imprese comunque sane e ci sono delle segnalazioni da parte appunto dei risparmiatori che comunque si vedono negare ugualmente il prestito in questi casi è evidente che bisogna per quelle segnalazioni avere un occhio particolarmente attento e quando possibile intervenire sul comportamento della banca perché non possono queste rientrare ovviamente in una fattispecie di rischiosità di riciclaggio di banca rotta perché non sono non è penso che non sia questo quello cui Banca Italia si riferisce quando parla di rischiosità rispetto appunto al coinvolgimento dal punto di vista penale insomma delle banche e dei funzionari prego grazie mille per le domande che sono molte spero di fare giustizia a tutti dove so la risposta dove non la so non la darò nel caso ecco visto che siamo tutto sommato in un numero relativamente ridotto per cortesia poi sollecitatemi in caso mi dovessi scordare qualche domanda importante allora Di Bertoldi sostiene che questo DL doveva affrontare l'emergenza e che la normativa è incoerente con questa finalità io francamente non mi sento di condividere questa interpretazione c'è una tensione che è quella che appunto abbiamo rilevato in varie sedi tra l'esigenza di affrontare l'emergenza che è sacrosanta e l'esigenza di tutelare i conti dello Stato perché se l'esigenza era quella di affrontare l'emergenza e basta bastava fare dei trasferimenti a fondo perduto in conto fiscale bypassando il sistema bancario accreditando i conti correnti dei debitori e questo avrebbe costituito la risposta certamente più efficace più efficiente probabilmente no in termini di efficienza abbiamo un problema non ci dobbiamo scordare che questo Paese di soldi pubblici da investire per l'emergenza o per altre esigenze non ne ha molti questo è un vincolo forte di cui non ci possiamo dimenticare quindi il meccanismo a cui faceva adesso riferimento la Presidente Ruocco cioè che con il meccanismo delle garanzie si ha un effetto moltiplicatore che consente poi una sostenibilità della macchina che è stata messa in piedi mentre con un sistema di trasferimento che magari qualche Paese in condizione finanza pubblica migliore si può permettere si ottiene una maggiore efficacia non c'è dubbio il problema è quello dell'efficacia versus efficienza io francamente credo che nessuno possa dire se l'equilibrio che è stato raggiunto sia effettivamente il migliore che sarebbe stato possibile raggiungere mi pare però che il legislatore si sia posto il problema e abbia trovato un modo per contemperare queste due esigenze in una maniera che almeno prima fase pare sensata sul fronte del sempre dei Bertogli parlava dell'adeguamento della situazione diciamo burocratica alle nuove norme come dicevo è difficile qua capire esattamente quanto questa fase questa fase di emendamenti inciderà sulle erogazioni è chiaro che se le condizioni cambiano se l'importo aumenta se la durata va da 4 a 6 anni è necessario rimettere le mani sulla misura bisogna vedere che cosa dice anche il debitore alcuni debitori possono essere contenti della cifra che gli è stata erogata per la durata che gli è stata erogata altri potrebbero invece decidere che i 5 mila euro in più sono importanti trovate una tabella che non ho commentato per esigenze di tempo in fondo alla presentazione che evidenzia che circa i due terzi delle richieste sotto i 25 mila euro erano schiacciate al massimo ai 25 mila euro questo dà da pensare che ci sia una quota di debitori che si è trovata un po' razionata diciamo mettiamola così e che potrebbe in effetti ripresentare un'integrazione della domanda ora come dicevo io credo che la macchina ormai sia avviata sul fronte della gestione di queste domande che quindi un'integrazione non possa determinare un si riparte da zero il debitore è quello ci sono tutta una serie di controlli che sono già stati fatti però è evidente che un certo aggravio lo si ottiene d'altra parte c'è anche in questo caso un'attenzione tra l'esigenza di migliorare la legge in fase di emendamento e l'esigenza poi di lasciarla così com'è per evitare questo tipo di problemi a noi pare che questa esigenza sia stata di nuovo ragionevolmente contemperata sulla base degli emendamenti che sono stati adottati l'onorevole Pesco faceva riferimento all'estensione delle moratorie a dicembre è una possibilità a livello europeo già adesso si sta discutendo di estendere il blocco della distribuzione di dividendi a dicembre o a gennaio fino adesso la Banca Centrale Europea e la Banca d'Italia hanno parlato di bloccare la distribuzione dei dividendi delle banche fino al primo di ottobre quindi è possibile certo che una estensione possa essere concessa si tratterà di vedere come evolve la situazione anche in questo caso come in altri degli interventi e suggerimenti che sono stati avanzati c'è una tensione tra lo spostare avanti e il redder azionem che a un certo punto può verificarsi parlo ad esempio della proposta che è stata avanzata di bloccare i rating questa questione è discussa ampiamente a livello europeo molte delegazioni di vari paesi equiparano il blocco dei rating alla rottura del termometro nella metafora di chi si misura la febbre al malato c'è chi dice che bloccare il rating bloccare il meccanismo del rating è che vi valga non voler vedere la malattia sostanzialmente ora questa chiaramente è una metafora che coglie solo una parte della storia perché l'altra parte della storia è che i rating retroagiscono ahimè non sono come il termometro che non retroagisce sulla salute del malato i rating effettivamente retroagiscono in maniera pesante sulla salute del malato però di nuovo si tratta di gestire due esigenze che sono in forte attenzione l'una dall'altra altri emendamenti di cui ho sentito parlare e di cui ho letto riguardano la centrale dei rischi anche lì c'è chi sostiene che si dovrebbe bloccare in maniera più o meno radicale la classificazione a MPL all'interno della centrale dei rischi diventa molto complicato perché se si perdono le ancore anche da parte degli intermediari poi diventa difficile continuare a erogare credito in maniera razionale e allineata a quello che succede nei paesi industrializzati standardizzazione di moratorie pubbliche e private ma credo che ci sia un discreto grado di standardizzazione abbiamo contezza che le banche non riuscendo in alcuni casi ad accedere alle moratorie pubbliche abbiano attivato moratorie private e poi passato il debitore sulle moratorie ex ex DL quindi non so quale altro grado di armonizzazione possa essere adottato però se ci sono proposte le vedremo volentieri non rivelo pesco faceva riferimento anche al fondo gasparini chiedendosi perché paga lo stato io ho capito che paghi lo stato perché al fondo gasparini hanno accesso dei debitori particolarmente bisognosi non a caso si parla di prima casa quindi c'è un'esigenza di tutela per dei debitori particolarmente debiti personalmente non vedo diciamo cose da aggiustare su questo fronte sempre pesco faceva riferimento a sanzioni alle banche per eventuali comportamenti scorretti ora il tema delle sanzioni è un tema molto ampio molto articolato ed è molto ben regolamentato dalla legge le sanzioni vengono applicate sulla base di fatti specie specificamente riconosciuta nel tub tutto ciò di cui stiamo parlando credo che sia molto lontano da un processo sanzionatorio è difficilissimo credo su questa base per il fatto che una banca non eroga credito arrivare a una sanzione quello che si può fare che la banca d'Italia fa e consente ai cittadini di fare è di attivare una macchina che consente al cittadino di portare all'attenzione di un'istanza superiore il malfunzionamento o la discriminazione noi abbiamo appunto degli esposti alla banca d'Italia se l'esposto non dà esito perché a seguito dell'esposto alla banca d'Italia si attiva con l'intermediario ma può non riuscire ad arrivare a una soluzione condivisa c'è la possibilità per il consumatore sia esso un'impresa sia una famiglia di rivolgersi all'arbitro bancario e finanziario e poi di rivolgere al giudice quindi se ci sono delle imprese o delle famiglie come diceva la Presidente Rocco se ci sono evidenze chiare di comportamento scorretto discriminatorio da parte della banca bisogna che il cittadino si prenda la briga di ricorrere in giudizio utilizzando appunto questi strumenti e questi canali quello dell'arbitro bancario finanziario è uno strumento molto snello che dà delle risposte in tempi ragionevoli rispetto a quelli della giustizia ordinaria e poi in effetti se riesce a dimostrare che il comportamento è stato effettivamente discriminatorio riesce ad avere ragione da qui a dire che sia possibile sanzionare le banche sulla base di questi comportamenti è più complicato perché le banche non ci dimentichiamo che sono delle imprese come le altre noi qua abbiamo diviso il mondo in banche e altre imprese le altre imprese sono colpite dalla crisi le banche no questa è una proposizione fallace le banche verranno colpite dalla crisi questo è poco ma sicuro le simulazioni che abbiamo non sono rassicuranti su questo fronte è evidente che una perdita di PIL sia essa del 9% sia essa più più elevata non potranno incidere sulle imprese e a catena sulle banche quindi occorre ricordare che le banche sono imprese di mercato Maratin chiedeva se si poteva essere più coraggiosi sul fronte della garanzia la mia impressione è che la garanzia al 100% abbia in effetti funzionato meglio che stia funzionando ci sono questi problemi di andata a regime però i dati ripeto importanti della seconda metà di maggio indicano che questa andata a regime sta avvenendo ci sarà alla fine una quota di imprese che non viene a cui non viene erogato il credito però ecco questa lentezza che si riscontrava ancora fino alla metà di maggio la si sta vedendo rapidamente recedere si poteva essere più coraggiosi è di nuovo un tema di finanza pubblica se fossimo stati la Germania lo dico in maniera un po' brutale avremmo potuto essere più coraggiosi avremmo potuto aumentare la quota di garantito al 100% posto che con le garanzie al 100% un po' di sana economia di base ci insegna che occorre fare molta attenzione perché la garanzia al 100% vuol dire che non c'è da parte di chi eroga molto incentivo a far sì che i soldi finiscano nel posto giusto quindi le garanzie al 100% sono comunque degli oggetti da guardare con attenzione ma tenuto conto della eccezionalità del momento forse si poteva essere più coraggiosi il punto è quello del vincolo e della compatibilità di finanza pubblica che ripeto è un vincolo molto molto importante in questo paese non ci dobbiamo scordare che se uno si scorda di questo vincolo si ritrova il vincolo che rientra sul fronte dello spread e lo spread non sto a dirvi quanti danni crea a livello economico per lo Stato e per tutta la catena dell'imprenditoria che ci sta sotto dato che c'è una trasmissione pressoché diretta Maratin chiedeva anche in materia di correlazione tra lentezza e dimensione delle banche sì su questo non ricordo se abbiamo delle evidenze nella relazione però c'è un po' di evidenza che le banche più piccole siano state un po' più lente non stiamo parlando di differenze enormi ma la differenza diciamo guardando le medie la si vede lo stesso vale per i tassi di interesse i tassi di interesse e su questo c'è una tavola nella relazione sono leggermente più alti per le banche più piccole ora anche da questo concludere che c'è un problema con le banche piccole occorre andarci cauti per esempio tipicamente la relazione standard è che le banche più piccole affidano le imprese più piccole le quali imprese più piccole sono tendenzialmente più rischiose o comunque pagano un premio sul fronte del costo del credito più elevato delle grandi quindi occorre essere molto cauti in termini di giudizi però l'evidenza che abbiamo è che le banche più piccole siano in effetti state per il momento un po' più lente Maratin faceva riferimento anche a un tema dell'innalzamento delle pene per l'autocertificazione falsa io su questo devo dire non sono competente come cittadino mi sento di dire che l'innalzamento delle pene a me non pare che abbia portato poi grandi risultati in termini di maggiore efficienza delle sanzioni però è possibile che in casi specifici in questo caso che io non conosco bene è possibile che in effetti un innalzamento avrebbe potuto essere importante il grafico che non abbiamo commentato sulla liquidità delle imprese è in effetti un grafico impressionante è un grafico da porlo di trilussa io l'ho voluto mettere qua dentro perché ritengo un'evidenza veramente impressionante è un'evidenza che non si limita all'Italia un altro grafico interessante che non sta qua dentro è quello della posizione finanziaria netta delle imprese non molti sanno che nel 2014 circa la posizione finanziaria netta delle imprese italiane è diventata positiva fino al 2014 le imprese prendevano a prestito e c'erano le famiglie che prestavano dal 2014 siamo al contrario cioè le imprese hanno una posizione finanziaria netta positiva sono creditrici da che dipende un tema veramente molto ampio non mi ci soffermo la prima causa a cui ha fatto riferimento Malatini questa carenza di investimenti che è un po' endemica in questo paese è sicuramente uno dei motivi c'è poi un tema di pollo di trilussa appunto dentro a quei numeri positivi c'è chiaramente una distribuzione e c'è chiaramente una fascia di imprese che non si riconoscono in quel tipo di aumento però è evidente quel grafico che ci dice che a livello di settore quando uno guarda i grandi aggregati deve tener conto del fatto che le imprese sono molto liquide sono in una fase storica in cui hanno accumulato liquide da 10 anni e questo è vero in generale da questo fenomeno della posizione netta delle imprese che si inverte è comune in molti in molti paesi europei Ferrazzi faceva riferimento ai grafici che non danno una correlazione i grafici andrebbero fatti in maniera più analitica andrebbero individuate misure di efficienza probabilmente migliori ma il punto chiave è cosa sta succedendo a questo fenomeno della lentezza perché se il fenomeno è in via di scomparsa anche l'analisi del fenomeno diventa abbastanza poco rilevante la nostra impressione come abbiamo scritto è che si tratti di un fenomeno che si sta attenuando rapidamente ci rimane una varianza quindi cosa fare noi stiamo rompendo le scatole passatemi il termine alle banche che stanno nella coda sbagliata della distribuzione stiamo chiedendo loro di spiegarci perché sono lente se ci sono dei buoni motivi ad esempio perché fanno un'istruttoria assolutamente a prova di bomba sul fronte AML noi diciamo va bene ci avete convinto se invece ci rendiamo conto che c'è un problema di servicer e gli diciamo cambiate servicer però ecco il punto è quanto ci mettiamo ad andare ad andare a regime i grafici stanno a far vedere per quello che possono valere si tratta di correlazioni semplici quindi possono essere anche spure che non c'è un tema strutturale uno avrebbe potuto come vi dicevo immaginarsi che ci fosse un tema di capitale per esempio poco capitale molta lentezza questo non sembra essere presente quindi cosa fare ripeto noi ci diamo da fare per raccogliere i segnali dalla cittadinanza dalla clientela bancaria e per andare a agire poi a livello micro proprio a livello di singola lagnanza o a livello macro con le banche per cercare di rendere più efficienti questi fenomeni quindi che ci sia maggiore lentezza sui prestiti oltre 25.000 euro è abbastanza fisiologico se mi passate il termine io ritengo che per oltre certi importi stiamo parlando di imprese di una certa di un certo peso gente sostanzialmente adulta e vaccinata che è in grado poi di interagire con più banche tipicamente sapete che l'Italia è molto diffuso il fenomeno del multi affidamento quindi si tratta di problemi direi meno rilevanti se tenete conto che delle 800.000 domande arrivate alle banche 720.000 sono quelle sotto e 25.000 euro avete un'idea di quanto insomma il fenomeno vero di tutela sia nei confronti delle piccole e piccolissime imprese ovviamente questo non vuol dire che sopra i 25.000 euro non ci sia un problema stiamo monitorando la velocità di erogazione anche in quel caso ma ritengo che le preoccupazioni siano meno fondate su questo fronte Ferrazzi faceva riferimento anche alla alla frase banale dell'autonomia nell'erogazione del credito io credo che appunto vada tenuto a mente quello che ci dicevamo prima le banche sono delle imprese l'unico modo per cambiare questo stato di cose è tornare a un sistema di credito pubblico ce lo abbiamo avuto in un'epoca storica speriamo di non doverci tornare a causa della crisi perché la crisi veramente avrà un effetto molto molto grosso questa è una battuta voglio dire però l'impatto sulle banche sarà grande l'esperienza del sistema del credito pubblico ce l'abbiamo avuta non entro qua nel merito è un dato di fatto però che attualmente noi siamo in un mondo di paesi industrializzati in cui il credito è privato le banche sono imprese quindi la scelta se erogare o meno sta alla banca se poi appunto il cittadino si trova discriminato per un motivo oggettivo e illegale ha il modo per vedere tutte le proprie esigenze ricorrendo alle varie stanze di cui parlavo banche di credito cooperativo ferro hanno percentuali di erogazione molto basse io qua non vorrei parlare di singoli intermediari però posso dire che c'è eterogeneità anche all'interno del mondo del credito cooperativo e che in alcuni casi ci sono tematiche tecniche che hanno influito e che hanno creato dei colli di bottiglia in particolare in un caso sappiamo che c'è un servicer sostanzialmente che è andato in sofferenza e che ha creato un collo di bottiglia siamo abbastanza fiduciosi sul fatto che questi problemi si risolveranno eterogeneità per macroare qua abbiamo un problema di dati i dati che rileva la banca d'Italia non sono spaccati per il momento per macroare lo sono i dati del medio credito centrale che però rilevano su fenomeni diversi quindi c'è molta disponibilità di dati siamo disponibili anche a fare elaborazioni se vengono ritenute utili ma non sui dati banca d'Italia che per il momento almeno sono richiesti alla capogruppo e che non hanno uno spaccamento sul discorso del rating di cui parlava Ferro ho già parlato lì ci sono pregi e difetti c'è un problema anche di consenso a livello tecnico le considerazioni della Presidente Ruocco già un po' ne ho parlato senza discrezionalità al sistema bancario allora si va appunto a un sistema di trasferimenti non c'è alcun dubbio sui tassi elevati oltre i 25 mila euro siamo in un'economia di mercato questa è la mia risposta ci sono già in Italia e siamo un'eccezione a livello europeo dei vincoli sul fronte della legge sull'usura nel resto d'Europa questi vincoli non ci sono l'imprenditore che si trovi con un tasso troppo elevato va da un'altra banca ora se c'è un problema di concorrenza si deve gestire attraverso la concorrenza mettere dei cap dei limiti ai prezzi l'esperienza delle economie pianificate ci ha insegnato che non sia in genere una buona idea quindi occorre vedere un po' il caso singolo e capire da dove venga il tasso se si è elevato anche sul fronte che i tassi siano sostanzialmente in linea a quelli che si registravano a livello aggregato in Italia ora stiamo parlando di tassi comunque molto bassi perché i tassi di interesse alle imprese in particolare sono su livelli minimi storici e la autorità di vigilanza non solo in Italia è preoccupata di questo fatto abbiamo delle evidenze che le banche facciano il cosiddetto cross selling sostanzialmente attirano con un tasso civetta e poi magari vendono al cliente risparmio gestito oppure un'assicurazione e quindi riescono a far soldi sugli altri prodotti ma abbiamo evidenza che i tassi di interesse sul credito siano a volte insufficienti a compensare il costo del rischio ora questo poi è un problema quando arriva la recessione e il cross selling è stato utilizzato per fare profitti e non per fare rettifiche sui crediti quindi occorre anche qua contemperare queste due esigenze da un lato dare un credito a un prezzo che sia giusto ho tenuto conto che anche i tassi di politica monetaria sono bassissimi dall'altro lato tener conto che il conto economico delle banche pure quello deve essere fatto quadrare in qualche modo mi fermerei qua mi pare che siamo già lunghi con i tempi grazie io la ringrazio veramente dottore Angeli faccio i miei complimenti perché è stata un'audizione molto utile grazie veramente per la collaborazione terminiamo qui la nostra seduta e ci vedremo presto grazie la seduta è tolta grazie a tutti grazie a tutti